0 a 0 a Bari tra i padroni di casa e la Ternana. Ancora un pareggio quindi per il Bari, è il ventunesimo di questo campionato, proprio nella giornata in cui cercava i due punti della sicurezza. I bianco-rossi hanno attaccato per quasi tutto l'incontro, ma come al solito non sono riusciti a concretizzare la loro pressione. D'altra parte la Ternana non ha faticato a contenere la spinta dei pugliesi, difendendosi molto ordinatamente e senza affanno e cercando di imbrigliare con una fitta ragnatela a centrocampo le manovre avversarie. La partita è stata veloce nonostante il clima foso e pesante, pochi però gli affondi e le azioni pericolose dall'una e dall'altra parte. Al ventiduesimo su di un cross del barese bagnato, uno dei quattro ex in campo, il rosso-verde Ratti per poco non batte il proprio portiere. Al trettacinquesimo Pellegrini lanciato da Gaudino si è fatto anticipare dall'uscita del portiere Ternano Mascella. È diminuita nel secondo tempo la spinta barese, scatenato invece tra gli umbi passa l'acqua che con le sue serpentine teneva impegnata la difesa del Bari. Al dodicesimo i bianco-rossi hanno comunque avuto la più favorevole occasione, quando Gaudino pur sbilanciato è riuscito a tirare, ma la palla è uscita a fil di palo. Inutile poi sino al termine ogni tentativo del Bari di passare.